La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato la multa da 2,42 miliardi di euro combinata a Google per posizione dominante. Il Tribunale Europeo ha respinto in toto il ricorso dell'azienda americana contro la decisione della Commissione Europea, secondo la quale il colosso californiano ha favorito il proprio servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi concorrenti. I giudici europei hanno dunque confermato l'ammenda miliardaria inflitta. Il ricorso era stato presentato sia da Google che dalla controllante Alphabet.